Però secondo la Bibbia quindi Dio per riconoscere i giusti doveva... Chiedeli di fargli vedere il pisello E se fosse così anche tra di noi Perché altrimenti, perché voglio dire, l'alternativa è pensare che Dio non è in grado di riconoscere lo spirito dell'uomo Pensa torni a casa e dici, oggi mi ha chiesto di fargli vedere il pisello Non si fidava di me adottuna Allora, il podcast musico, Federico, un tavolo triangolare, muschio, microfono, videocamere e luci Ospiti diversi, senti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti Sincerità, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Figaro massaggio Allora, oggi... Come va? Ciao ragazzi! Raga, io non sono capace di iniziare i podcast Benvenuti a Mario Inizio selvaggio Inizia tu, vai Inizio io e dico... Ok Bentrovati a Muschio selvaggio Nell'episodio di oggi abbiamo con noi Mauro Biglino Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie Grazie a lei per essere venuto Io azzarderò una presentazione, non so se azzeccherò bene L'ho appena fatta No, non abbiamo spiegato cosa fa Mauro Biglino, scusami Mauro Biglino nasce come esperto di aramaico antico? No, allora... Ok, parliamo... Diciamo di ebraico biblico Di ebraico biblico e ha tradotto dall'ebraico biblico all'italiano per anni, per varie case editrici, famiglia cristiana No, in particolare sulle edizioni San Paolo Edizioni San Paolo, le Bibbie dall'aramaico ed ebraico... Dall'ebraico Dall'ebraico biblico all'italiano Le edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri da me tradotti Fino ad arrivare alla pubblicazione di altri libri che titolano La Bibbia non è un libro sacro ma soprattutto La Bibbia non parla di Dio E dove in sostanza Mauro Biglino asserisce che Dalle traduzioni che noi abbiamo sulle nostre Bibbie La traduzione non è fedele in sostanza E quello che lui propone è di sostituire le parole laddove ci sono tutti sinonimi di Dio in sostanza E sostituirle con le parole originali La domanda che sorge spontanea è più banale ma è perché la Bibbia non parla di Dio? Allora perché non aveva intenzione di parlare di Dio Cioè nel senso che gli autori biblici che ovviamente Dico ovviamente perché è una ovvietà anche se Non è riconosciuta come tale Noi non sappiamo chi ha scritto la Bibbia Noi di nessun versetto possiamo dire con assoluta certezza Sappiamo che la Bibbia Quel versetto l'ha scritto quello lì Non ce n'è uno Questo vale sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento Chiaro Addirittura quello che noi diciamo Io in catechismo faccio cagare Però tipo il Vangelo secondo Giovanni Noi pensiamo, attribuiamo a Giovanni La paternità dell'opera Ma di Giovanni magari ce ne sono stati dieci Che si distanziano fra loro di secoli Giusto? Difatti anche i Vangeli non sappiamo chi l'abbia scritta Ma scusate la Bibbia quando è stata scritta? La Bibbia è stata scritta nel corso di molti secoli Noi possediamo coppie di coppie di coppie Quindi in realtà quando sia stata scritta esattamente non lo sappiamo Quindi noi non sappiamo chi l'ha scritta Non sappiamo quando è stata scritta Non sappiamo quando fosse scritta in origine Come fosse scritta in origine Però ci arroghiamo il diritto di dire Che quelli che l'hanno scritta L'hanno scritta ispirati da Dio Ma se non sappiamo neanche chi sono Ora il discorso è che quindi Perché è stata scritta la Bibbia e perché non parla di Dio? Perché quelli che l'hanno scritta Erano gli autori Diciamo così di quel popolo Che intendevano parlare di loro stessi Cioè del loro popolo E di quegli in particolare Di un individuo che faceva parte di un gruppo Di quell'individuo che di loro si è occupato E questo individuo che la Bibbia chiama col nome di Yahweh È stato fatto in modo assolutamente artificioso Assolutamente per usare una parola un po' dura Ma è falso È stato fatto diventare Dio Cioè è stato fatto diventare un Dio spirituale Ora quando io dico queste cose Le dico E faccio sempre una precisazione Che è fondamentale Sì prego Che è fondamentale Che Io non dico Dio esiste o Dio non esiste Perché non lo so Non lo sa nessuno Insomma non lo so Per gli uomini di fede esiste Benissimo io non ho nulla da dire Dico che quel libro non ne parla Perché non aveva intenzione di parlarne Sono state le interpretazioni successive Che hanno fatto sì Che la chiave di lettura introdotta Facesse credere a tutti Soprattutto a quelli che non leggono quel libro Che quel libro parlasse di Dio Ma non è così Dopodiché Dio esiste Benissimo non c'è problema Io non ho nulla da dire Quel libro non ne parla Ma trova che ci siano dei libri Che ne parlano A differenza della Bibbia? No Cioè nel senso che ci sono dei libri Per dire Le migliaia di libri O degli eventi magari Qualcosa Ecco gli eventi sono interpretati Alla luce di una fede Che quindi attribuisce degli eventi Ad un Dio Ma Come dire La prova provata La manifestazione chiara Dell'esistenza di un Dio Non c'è mai stata In nessuna parte della Terra E in nessuna religione Quando parlo di Dio Sto parlando del Dio Che la teologia Ha trasmesso a noi Cioè quel Dio Che è stato elaborato a tavolino Attraverso insomma Secoli di elaborazione teologica Che è quindi il Dio spirituale Trascendente Onnisciente Onnipotente Creatore dei cieli Tutta questa roba qui L'onniscienza L'onnipotenza La creazione Nella Bibbia Non ci sono Proprio non ci sono Sono curioso Ma se la Bibbia Non parla di Dio E prima ha detto un nome Tao Yahweh Yahweh Sì non Tao Che sarebbe Gesù In teoria No Sarebbe Allora Per la Chiesa Sarebbe teoricamente Il padre di Gesù Ah il padre di Gesù Ah Giuseppe E Giuseppe No 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 Il padre inteso come Dio È vero Giuseppe non ha fatto Gesù Ah Yahweh è Dio Il padre Era il catechismo zero Noi Io non sono mai stato in Chiesa Non è questione di catechismo zero È che la Chiesa Il nome di Yahweh Lo tiene nascosto Ah perché? Perché addirittura È uscita nel 2000 Insomma 4-5 anni fa Una circolare Dal Vaticano Per Vescovi e sacerdoti Dove si dice Non parlate di Yahweh Non utilizzate il nome Yahweh Nella liturgia Perché non è cristiano Cazzo Un esercizio che lei fa vedere nelle sue conferenze è quello in sostanza per l'appunto siccome non possiamo attribuire una traduzione certa ad alcune parole L'esercizio che il signor Billino propone è quello di sostituire ad alcune parole la cui traduzione non abbiamo certezza e contezza che sia una traduzione precisa Lui dice in sostanza sostituite quella parola con la parola originale in ebraico E la cosa stupefacente è che la Bibbia assume totalmente un altro senso Se letta con le parole Nonostante 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 Noi non sappiamo e non abbiamo contezza del significato di quelle parole Però si capisce Che la Bibbia Laddove c'è si parla di Dio Di altissimo Di divino Parla in realtà di più persone Quindi laddove si Nella Bibbia Di Dio Si pensa che si parli di Dio e in realtà si parla di più persone E quindi la Bibbia diventa un libro di guerra È sostanzialmente un libro di guerra, un libro ferocissimo E quindi in realtà ecco per esempio la parola Dio è la traduzione assolutamente impropria, assolutamente ingiustificata Del termine Elohim Ora il termine Elohim è un termine plurale Il fatto che sia plurale viene giustificato in 3000 modi diversi Perché siccome l'han fatto diventare Dio poi devono spiegare come mai è plurale Allora non entriamo qui nel merito delle discussioni tecniche Ma per esempio in questo libro qui Questo è ben analizzato anche in questo Elohim è plurale La Bibbia parla di una pluralità di individui Tra questi Elohim C'è questo individuo che si chiama Yahweh Che è quello che ha avuto il compito di occuparsi Diciamo così della nazione di Israele E quindi la nazione di Israele E cioè gli autori della Bibbia Raccontano la storia del loro rapporto con questo loro governatore Dopodiché questo loro governatore è stato fatto diventare Dio Per fortuna non lo è Io in un mio lavoro ho Diciamo pure documentato Che Yahweh andrebbe sottoposto Allo stesso processo cui sono stati sottoposti a Norimberga Sappiamo chi Perché ha commesso esattamente gli stessi crimini nei confronti dell'umanità Gli stessi Genocidio, infanticidio, promulgazione di leggi razziali Cioè tutte queste Quindi se i principi sono quelli E sono considerati i principi giuridici Principi di ordine naturale Quindi che vengono prima di ogni legge Beh allora le applichiamo tutti Sicuramente è un'attività classica dell'uomo Fare queste cose su se stesso Attribuirle a un Dio Però facendo così dobbiamo anche dare per scontato Che sia vero quello che c'è scritto nella Bibbia Potrebbe essere un libro di Harry Potter Difatti tutto il mio lavoro dall'inizio Cioè dal 2010 Insomma da quando ho cominciato a farlo pubblicamente Perché prima lo facevo solo per mio piacere personale Per curiosità mia È tutto basato su un assunto Anzi su un'affermazione Facciamo finta che Cioè tutti i miei libri contengono ripetuta questa affermazione Facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero Facciamo finta perché non lo sappiamo Veramente io ho sempre guardato i video suoi con estrema curiosità Non È una voce fuori dal coro È sempre piacevole Non ho una posizione Nel senso che Non lo so Mi farò un'idea durante questo podcast in realtà Però a me la cosa che mi interessava Innanzitutto lei sa la Bibbia a memoria? No Cioè la conosco No Però l'ha letta tutta Tante volte E raga la verità è che Chi la legge? Chi cazzo la legge la Bibbia raga Io ho letto dei pezzettini Sì dei pezzettini Ma chi la legge? Il primo libro stampato Il libro più vecchio Il libro più venduto Il libro meno letto in realtà Però il più distribuito è il catalogo Icchia Questa Questa è una profonda verità Che è Che è se volete Il grosso punto di forza Della chiesa Che la gente non la legge E quei pochi che la leggono Leggono dei brani Non la leggono tutta E purtroppo la leggono Già con i filtri Derivanti da Grazie molte Derivanti dall'educazione Cioè per cui Un abituato Quando la legge Qui legge Allora Dio ha fatto Dio ha detto No Perché purtroppo Questo è l'altro discorso In ebraico non c'è scritto Dio ha fatto Molto spesso c'è scritto Gli Elohim Hanno fatto Col verbo al plurale No scusate Ti è partito Ti è partito Sistemati il microfono Un intervento divino Mi ha cambiato la voce Allora profitto No Una cosa interessante Non so se mi ricordo bene Però già leggendo la Bibbia così Nel testo che abbiamo La Bibbia che tutti abbiamo a casa Già si possono Trovare delle incongruenze Moltissime Mi puoi fare un esempio? Cioè proprio Diciamo che la Bibbia quindi È una cosa che si Diceva fortunatamente Per la Chiesa Non viene letta È come la legge Come la Costituzione Beh ma la Bibbia Innanzitutto è stata censurata per anni Certo sì C'era un periodo in cui Era proibito possederla Cioè chi la possedeva Soprattutto chi possedeva Delle Bibbie Posso chiedere un po' più vicino al microfono? Chiedo scusa Delle Bibbie tradotte Nelle lingue volgari Doveva consegnarle al Vescovo In sostanza Perché ovviamente Lo sanno molto bene Che se uno legge Con un minimo di discernimento Ma dico Semplicemente Con mente equilibrata Non dico con mente Accremente critica Non mente equilibrata Tranquillo Come dire Vediamo un po' Che cosa dice questo libro Per esempio Non so In Giacobbe Insomma in Genesi Quando si dice a Giacobbe Gli Elohim gli dicono Ah senti Tu dovrai costruire un altare A quello di noi Che ti sia fatto Che ti sia presentato E glielo dicono gli Elohim Tu devi costruire un altare A quello di noi Che è più chiaro di quello Come si può spiegare questo? Questo non l'ho capito Mi sono perso Parla in plurale Esatto Il gruppo degli Elohim Dice a Giacobbe Costruisci un altare A quello di noi Che è Yahweh Che ti sia fatto vedere Quindi sono di più Per esempio Quando nella Bibbia C'è scritto Dio apparve Ecco in ebraico Non c'è scritto questo Il verbo ebraico È chiarissimo C'è scritto L'Elohim Si fece vedere Che è una cosa diversa L'apparire È una traduzione teologica Perché siccome si pensa Vuol far credere Che quello sia un Dio spirituale Cosa fa un Dio spirituale? Appare Certo Siccome quello non è un Dio spirituale È un Dio che ogni tanto Decide di farsi vedere Cioè arriva personalmente È un po' come quando uno dice A un amico Ma sono due anni che non ti fai vedere Mica gli dice Sono due anni che non mi appari Che non mi appari Ecco questo è l'ebraico Ma ci può far vedere degli esempi Secondo lei Di passi che possono Cioè che leggendo la Bibbia Che abbiamo a casa Queste sono delle Bibbie Che abbiamo a comprare Dove le abbiamo comprate? Qui sotto c'è una libreria Qui sotto c'è una libreria Teologica Ci sono anche gli abiti da prete Che ero molto tentato di comprare E poi dopo è molto interessante Quando spiega Quanto è difficile l'ebraico Che basta un puntino spostato E cambia tutto il significato Di tutta la parola Deuteronomio 32 versetto 8 Mettimi Deuteronomio Che è un minimo di uomo timorato Cosa stai facendo? Devi leggere la Bibbia Lo disse Deuteronomio 32 32 versetto 8 Versetto 8 Guarda viene già fuori La parola punto net Perfetto E' questo? Allora Qui per esempio in italiano c'è Quando l'altissimo divideva le nazioni Quando separava i figli dell'uomo Egli stabilì i confini dei popoli Secondo il numero dei figli di Israele Perché eredità O porzione del Signore Signore è uno dei modi in cui viene tradotto Yahweh Ok È il suo popolo Giacobbe Sua parte di eredità Allora In ebraico c'è scritto Non quando l'altissimo Ma quando Elyon Che non è un superlativo assoluto in ebraico Indica semplicemente Quello che sta sopra Cioè il comandante Quindi quando il comandante Divideva le nazioni Quando separava i figli E ha più senso con il comandante Che con l'altissimo Se ci pensi Sì ma infatti è così Perché l'altissimo non esiste in ebraico Ma anche nel mondo reale Chi è l'altissimo? Cioè non esiste qui Cioè non esiste nella Bibbia qui Allora Quando separava i figli dell'uomo In realtà Nella Bibbia c'è scritto I figli dell'Adam Che sono un gruppo particolare Gli adamiti Ma lasciamo stare E gli stabilì I confini dei popoli Secondo il numero Dei figli di Israele Nei testi ebraici più antichi Non c'è scritto Secondo il numero Dei figli di Israele C'è scritto Secondo il numero Dei figli degli Elohim Cioè Lui divideva le nazioni Secondo il numero Dei governanti Cioè loro Si spartivano la terra Si spartivano la terra Ma non è mica finita Quando separava I figli dell'uomo Egli stabilì I confini dei popoli Secondo il numero Dei figli di Israele E porzione del Signore È il suo popolo Cioè Israele Ma porzione In ebraico È eredità O assegnazione Cioè vuol dire Che a questo Yahweh È stato In questa divisione È stato assegnato Il popolo di Israele Perché altri Sono stati assegnati Ad altri popoli Tant'è che la Bibbia Li nomina Si chiamano Camosh Milcom Si chiamano Dagon Si chiamano Ashtarot Li chiamano pure Per nome Gli altri I colleghi di Yahweh Attenzione Io dico Yahweh Perché in ebraico C'è Yahweh Ok Yahweh Qui c'è il Signore Lui Lui da solo Lo ha guidato Non c'era con lui Alcun Elohim Straniero Ma come fa a esserci Un Elohim Straniero Se lui è l'unico Dio Ah si c'è scritto Alcun Dio straniero E anche senza mettere L'unico di altri popoli Esattamente Cioè come dire Lui di quel popolo Si è occupato da solo Senza farsi aiutare Dai suoi colleghi Quindi da per contatto Che ci siano degli altri dei Per forza Se noi prendiamo I racconti di Platone Che ci raccontano Esattamente la stessa cosa Cioè della suddivisione Dali popoli Tra le cosiddette divinità E in questo libro qui C'è proprio il confronto Tra la Bibbia E i testi greci Per far vedere Che raccontano Esattamente Le stesse cose Esattamente E anche qui Come ci sono i versetti ebraici Ci sono i versetti in greco Quindi ognuno se li può andare A controllare Platone ci racconta Che ci sono degli dei Chiamiamoli così Che hanno governato Da soli i loro popoli Degli altri invece Che si sono messi assieme Cioè hanno condiviso Il potere Esattamente Però nelle religioni È classico Anche insomma Nel Nuovo Testamento È palese Che la divinità Si traduce in singolo E multiplo Più e più volte C'è la Trinità Che è tra in uno La Trinità È una elaborazione teologica Nel Nuovo Testamento Noi abbiamo Questo personaggio Cioè Joshua ben Youssef Cioè Gesù figlio di Giuseppe Che si rivolge Ad un El Ed è così El è il singolare Di Elohim E Lo chiama El Soprattutto per esempio Quando è sulla croce Che dice El I El I Le Mas Bakhtan I Cioè El mio El mio Perché hai abbandonato me E questo El Viene tradotto con padre Ma tradurre El con padre È fantasia pura Tra l'altro È vero che gli ebrei Sono quelli che hanno Il testo più Cioè perché Aspetta Io Non capisco molto bene Noi abbiamo La Bibbia cristiana Cattolica E invece gli ebrei Cosa hanno? La Torah La Torah La Torah diciamo Che è il testo più attendibile Ma allora Diciamo che Il testo ebraico Universalmente diffuso È quello che citavo prima Cioè il codice di Leningrado Che è quello Da cui traduco io Ok Che è Sostanzialmente Il codice base Poi ci sono altri codici C'è il codice di Aleppo Poi ci sono Per esempio I testi di Qumran Che sono più antichi Di quello Di quello di Leningrado Che vengono usati Spesso come termine Di confronto Io stesso L'ho fatto più volte Proprio perché Nei testi più antichi Ci sono cose Che nel testi più recenti Sono state fatte scomparire Posso chiedere una cosa Poi smarchiamo Perché secondo me È bello C'è una cosa Che a me ha stupito Quando io ho visto Un paio di video suoi E quando tu Le trovi proprio Delle cose un po' strane Dentro la bebia Di tutti Il Dio straniero Ce n'è una addirittura Se non ricordo male Dove Dio Dice ad Abramo Adesso io sparro nomi a caso Perché non li so Dove Dio dice ad Abramo Tipo io ti do il 50% Dei fare una trattativa Tra Dio e qualcuno È possibile? No Non è che Ah no La trattativa Sì ho capito cosa ti riferisci Ok La trattativa Avviene nel momento In cui Questo El Perché non mi piace Usare la parola Ma lei sa dove si trova Perché se la leggiamo Secondo me è più Sì 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 Ma quando Quando questo El Chissà chi ha Le royalties della Bibbia Eh nessuno I diritti Perché pensavo Ci sono un sacco Di case editrici Che lo fanno In tutto il mondo Ma Quando questo El Decide di distruggere Sodoma e Gomorra Luis mettimi il versetto Così ce lo leggiamo Nessun attimo solo Che andiamo Andiamo a trovare Scusa non volevo dirtelo così Sono stato maleducato Luis Te l'ho detto In maniera cattiva No ma L'altissimo si può usare Per dei giocatori Di pallacanestro Sodoma e Gomorra Non riguarda Lot Allora siamo nel capitolo Di capitolo 18 della Genesi Di capitolo 18 della Genesi Sono i capitoli 18 e 19 in realtà Ok Quando appunto tre personaggi Che Abramo riconosce subito Come appartenenti a quella schiera Vanno a trovare Abramo che vive Tranquillo all'ombra Della sua tenda E uno di questi personaggi Che poi risulta essere Yahweh Si ferma a parlare con lui Mentre gli altri due Partono a piedi E vanno a Sodoma Ad avvertire Lot Cioè il nipote di Abramo Di abbandonare la città Perché loro il giorno dopo La distruggono Ok Ok Allora qui Abramo intanto Perché per non leggere tutto Perché ci mettiamo Troppo tempo Abramo dice ai tre Che li vede stanchi Impolverati Quindi pensate Dio stanco Impolverato Sudato Gli dice No ma fermatevi Mangiate Bevete Cioè riposatevi E di fatti Gli prepara da mangiare Eccetera 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 Dopodiché Quando gli altri due Se ne vanno Ad avvertire Lot Lot Chi era Lot raga? Il nipote di Abramo Che viveva in Sodoma Era una persona degna Che viveva a Sodoma Allora Abramo Quando Yahweh gli dice Guarda che noi distruggiamo Sodoma Abramo gli dice Ma davvero sterminerai tutti Il giusto con l'Empio Ma forse ci sono Abramo sta parlando con Dio Con Dio Ok Forse ci sono 50 giusti Nella città Davvero li vuoi sopprimere? Ora Io chiedo Come faceva Dio a non sapere Che ci sono 50 giusti? E non avere il controllo E non avere il controllo Se a termine di sto discorso Dio cambia idea Rispose il Signore Se a Sodoma Troverò 50 giusti Nell'ambito della città Per riguardo a loro Perdonerò a tutto quel luogo Se li trovo Sembra più una conversazione Tra persone Cioè perché Dio non lo sa No? E' vero e fatti Deve essere onnisciente Attenzione Ma finisce mica qui Forse i 50 Abramo dice Ma forse i 50 giusti Ne mancheranno 5 Per questi 5 Distruggerai la città? Risponde Yahweh Non la distruggerò Se ne trovo 45 Abramo riprese ancora E disse Ma forse là Se ne troveranno 40 Rispose Tra virgolette Dio Non lo farò Per riguardo a quei 40 Cioè tutta questa trattativa E ora come si facevano A riconoscere i giusti Visto che Dio non li riconosceva Perché lui stesso dice Se li trovo Perdono Vuol dire Non so se ci sono Li devo trovare Ora siccome il segno Dell'alleanza Con lui Come detto chiaramente Nella Bibbia Era la circoncisione Cioè come dire Quelli che appartenevano Alla sua alleanza Quindi per riconoscersi Dovevano tirare fuori l'uccello Esattamente Che roba scomoda Una cosa abbastanza scomoda Anche perché È un segno È un segno Nascosto Ma immediatamente verificabile Ah beh certo Bello Un po' imbarazzante Devo dire Perché altrimenti Bisogna pensare Che Dio non è in grado Di leggere Nello spirito degli uomini Per trovare 50 giusti Si parla di 2000 anni fa Quindi era un usanzo Un po' Qui siamo a 4000 Però secondo la Bibbia Quindi Dio per riconoscere I giusti doveva Chiedergli di fargli vedere Il pisello Penso fosse così Anche tra di noi Perché altrimenti Perché voglio dire L'alternativa è pensare Che Dio non è in grado Di riconoscere Lo spirito dell'uomo Pensa torni a casa E dici Dio oggi mi ha chiesto Di fargli vedere il pisello Non si fidava di me Allora Allora Il discorso qual è Che per fortuna Per fortuna Appunto Siccome la Bibbia Non aveva intenzione Di parlare Di Dio È un libro Molto concreto È un libro Che non si fa scrupolo Di dire Quando Yahweh Dice a Saul Nella tua lotta Contro gli Amalekiti Li devi sterminare tutti Comprese le donne I bambini I lattanti E gli animali Allora Saul Vince gli Amalekiti Li uccide tutti Lascia in vita Soltanto il re E gli animali Il re perché era Insomma Un maschietto bello E gli animali E allora cosa succede Che Dio lo punisce Perché ha lasciato in vita Una persona E ha lasciato in vita Gli animali Quindi questa è la giustizia Non era così comprensivo Devo dire Cioè come dire Non hai eseguito il mio ordine Quindi ti tolgo il regno Come un comandante Ma lui quello era Un feroce comandante militare Però un feroce comandante militare Che attraversa millenni Se la Bibbia Che attraversa millenni Perché gli Elohim In teoria vivevano Cioè è attestato dalla Bibbia Quindi questi Elohim Esistevano Esistevano Facciamo parlare Ma ne parlano Ne parlano I popoli Pur con nomi diversi Di tutti i continenti della Terra Cioè l'Elohim è il nome biblico In India sono i Deva Altro luogo sono i Viracocias Nel nord dell'Europa Sono gli Asi Per esempio L'ultimo libro Che ho pubblicato Un mese fa Che è Gli dei baltici Della Bibbia Ed è il collegamento Da pelle d'oca Tra l'antico testamento L'antica Israele E il nord dell'Europa Compresa Libri Sognerà rivedere Tutta la storia egizia Perché ci sono delle cose Che sono veramente Da pelle d'oca Abbiamo cominciato a pubblicare Questo primo libro Ma c'è già materiale Per un sacco di lavoro futuro Li chiamavano gli Asi E quindi Cioè erano sempre gli stessi Cioè erano i teoi omerici Ma erano sempre gli stessi Cioè sono persone che vivono Centinaia di anni? Secondo Secondo Alcuni racconti I personaggi biblici Scusi I personaggi biblici Tipo Mosè Quanti anni ha vissuto Mosè Secondo la Bibbia? Mosè 120 Beh mica male comunque Però abbastanza poco C'è stato un periodo Nel quale la classifica Fate parlare Mauro Un attimo Voglio sapere Ma un attimo Voglio sapere Ho la tua Ho la risposta per te No Voglio chiedere una cosa La classifica Di chi ha vissuto di più Io A partire dagli adamiti Che vivevano oltre 900 anni Questo è scritto nella Bibbia Sì sì Però a un certo punto Nella Bibbia c'è scritto pure Tipo che Dio dice Basta Vivete troppo a lungo Vi pongo come limite i 130 anni Bravo Perfetto 120 anni Perfetto Bravo Perché? Che poi c'è chi ha vissuto 127 anni Comunque mi pare che il record Di persona più longeva Si attestito Allora Il discorso qual è? Che gli adamiti Cioè Chiamiamolo così Questo gruppo etnico speciale Aveva una forte componente genetica Degli Elohim Tant'è che Secondo alcune traduzioni possibili Del capitolo 6 della Genesi Fatte per esempio da un docente universitario Dell'università americana di Beirut Kamal Suleiman Kalibi Che dice che lì in realtà Yahweh dice Yahweh in quanto rappresentante degli Elohim Dice Io smetterò di apportare il mio patrimonio genetico agli adamiti E la loro vita passerà a 120 anni Cioè cessano di dare il loro patrimonio genetico Attraverso le unioni sessuali Così come descritte nel capitolo 6 della Genesi Dove si dice Che appunto gli Elohim si univano con le femmine figlie degli adam E ne prendevano quante ne volevano E facevano loro dei figli Ma questi Elohim Se hanno vissuto centinaia di anni E possono vivere centinaia di anni Sono morti ora? Questo è tutto un altro discorso Che varrebbe la pena di sviluppare separatamente Ma questa interpretazione richiama molto a un film In particolare Ah ma sono tantissimi Forse ha visto Prometheus Sì sono tantissimi Le ritiene che Prometheus possa tornare Allora io vi dico questa che è una mia convinzione Quindi Un conto è quando vi dico nella Bibbia c'è scritto questo Quando vi dico una mia convinzione Prendetele e buttatela perché non vale niente Ma la filmografia hollywoodiana È pienamente Quando parla di queste cose qui è pienamente informata sulla realtà dei fatti Non è fantascienza È preannunzio Preannuncio di scienza Cioè preannunzio di conoscenza Perché prima o poi queste cose ce le diranno Qui che mi scatta lo scetticismo Vorrei parlare più di Elohim Perché No infatti Io invece volevo Una guida su come C'è uomini che vivono centinaia di anni Voglio sapere Eh lo so però Possiamo dare ai nostri ascoltatori Li chiamiamo ascoltatori Come li chiamiamo? Visualizzatori Possiamo dare ai nostri visualizzatori Un tutorial su come leggere la Bibbia? Beh con gli occhi Apri leggi Quando trovate Dio Leggete la Bibbia che avete in casa Quando trovate Dio Togliete la parola Dio Metteteci la parola Elohim Sapendo che spesso Quando magari in italiano È tradotto singolare il verbo Il verbo in ebraico è il plurale Però qui non vi posso dire tutte le ricorrenze Perché altrimenti Quando trovate la parola Signore O Eterno Metteteci la parola Yahweh Perché è esattamente ciò che c'è scritto in ebraico Che non c'è scritto Non c'è scritto Eterno Cioè il concetto di eternità in ebraico non c'è Ok? Quando trovate l'onnipotente Metteteci Shaddai Che in ebraico Che è la traduzione impropria Perché Shaddai in ebraico Al più vuol dire Signore delle steppe Che viene tradotto con onnipotente Chissà perché Chissà perché Un gacciatore Quando trovate la parola Spirito Metteteci Ruach E lasciate il termine ebraico Attenzione C'è un passo nella Bibbia Dove se tu togli la parola Che sarebbe Vabbè tipo un sinonimo di Dio Raggi Dio Leggere l'esodo Perché per capirlo bene è bene leggere tutto il capitolo Quindi se volete potete andare a vedere Ad un certo punto Ad un certo punto Mosè Che aveva a che fare con questo Elohim Però voleva essere sicuro Di chi era questo Con cui aveva a che fare Perché sapeva benissimo Che non era Dio Ma che era uno dei tanti E voleva essere sicuro Che questo fosse in grado Di mantenere le promesse Che gli stava facendo Gli dice Io ho bisogno di vedere Il tuo Cavod Ora Sappiate che in italiano Cavod viene tradotto con gloria Ok Allora voi pensate Che nel momento in cui Mosè gli chiede Io devo vedere il tuo Cavod Vuol dire che Mentre parla con Dio Guardandolo negli occhi La gloria di Dio non c'è Perché lui gli dice Io devo vedere la tua gloria In teoria c'è sempre la gloria Vuol dire che Dio viaggia senza la sua gloria Allora Dio gli dice Va bene Cioè capisce l'esigenza E gli dice Tienti pronto per domani mattina Cioè come dire La mia gloria te la faccio vedere domani mattina L'ho dimenticata Però poi gli dice Però quando io passo con la mia gloria Quindi la gloria è una roba che passa Tu non puoi guardarla da davanti Perché se la guardi Se stai davanti muori E Dio non può fare niente Cioè Dio non è in grado di controllare Gli effetti della sua gloria E gli dice Quindi tu fai una cosa Quando io passo con la mia gloria Nasconditi dietro queste pietre E la guardi di dietro Dopo che è passata Così non muori Cioè la gloria di Dio Deve essere guardata di dietro Dopo che è passata Perché se ci siete davanti Mentre sta passando Mi spiace per voi È una gloria fisica Ma morite E Mosè fa così Mosè fa così Quindi si salva Però ha la faccia bruciata Tant'è che quando scende dal monte Quando sta al sole Deve coprirsi con un velo Che si può togliere soltanto Quando va all'ombra Quindi io dico Leggete il libro dell'Esodo Perché per esempio Sempre nel libro dell'Esodo Troverete scritto Che quando c'è Aronio e Mosè Che stanno parlando al popolo A un certo punto Tutto il popolo Si gira È bellissima la scena Sembra una scenografia di un film Si gira verso il deserto Per vedere la gloria di Dio Che compare dentro una nube Perché ne ha sentito il rumore Cioè quindi si gira per vederla La gloria Perché stava arrivando Tipo un Harley Davidson Dopodiché uno può pensare Quello che vuole Uno può pensare Quello che vuole Ma questo c'è scritto E io faccio questo Io vi dico Guardate che c'è scritto questo Per cui quando trovate Il termine gloria Togliete il termine gloria E metteteci kavod Non traducetelo Che siamo sicuri Che è la parola originale Che è la parola originale Dopodiché vedete Che cosa il contesto dice del kavod Quando dice che il kavod Scendeva nel tempio E lo riempiva E nel tempio Non si poteva entrare Perché c'era il kavod Era il parcheggio Ora Cosa vuol dire Cosa vuol dire Che se la gloria di Dio Entra dentro il tempio Vuol dire che sta chiusa Dentro le pareti Perché se io sto subito Fuori dalle pareti La gloria di Dio Non la vedo E non la sento Ma dentro le pareti Non ci posso entrare Perché essendoci la gloria di Dio Se entro muoio Lei qui non vuole dire Esattamente quello che crede Anche se io Che cos'è la gloria di Dio Allora io E qui però Devo fare un passo a latere Rispetto ai testi biblici E quindi Prendere ciò che raccontano I popoli Di tutti i continenti Della terra Che con maggiore libertà Rispetto agli autori biblici Soprattutto rispetto a poi A ciò che è stato fatto Della Bibbia nei secoli Perché la Bibbia è stata fatta Diventare il fondamento Di una religione Spiritualista Come la conosciamo noi Beh tutti ci raccontano Dei figli delle stelle Che sono arrivati qui E ci raccontano Con dovizia di particolari Gli strumenti che usavano Gli strumenti con i quali Si muovevano E beh questo a me ricorda Uno dei tantissimi strumenti Di cui ho letto Descrizioni nei Purana Nei Vedanta Eccetera Perché lì sono chiarissimi Perché lì per loro Non c'è nessun problema A parlare di queste cose E' qui in occidente Che chi parla di queste cose E' un deficiente E' ovviamente scatena Dello scetticismo generale E beh soprattutto c'è l'Italia Per me è tutto tanto credibile Quanto finché non Cioè poi sono Sono tutti credo Alla fine Si sono tutte ipotesi Io semplicemente Dal momento in cui Questo libro Affonda Cioè No questo potrebbe essere popolare Questa ipotesi qui E' tanto plausibile Quanto la sua ipotesi Certo però Io non ho idee Cioè per me può essere Cioè adesso dico una blasfemia Però ragazzi Diciamo il parere di un attimo Per me questa cosa qui E' un po' sopravvalutata No è uguale a Harry Potter Il signore degli anelli No? Però dal momento in cui Questo Harry Potter Ha messo le fondamenta Della nostra società civile Sì 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 E dobbiamo interrogarci Ma perché era il problema Di cosa parla veramente Perché il primo Harry Potter stampato Se avessero stampato Harry Potter Prima saremmo tutti dei maghi Esatto Se lo stampabili Il catalogo Ikea Prima saremmo lì Ha messo il dito Sul problema vero Cioè Il problema O comunque la finalità Non sta nel sostituire Una verità ad un'altra Perché altrimenti Cadremo nello stesso errore Il problema è far capire Che non si possono costruire Delle verità assolute Partendo da un libro così Che è super inattendibile Super inaffidabile Tutto lì Tutto lì Secondo me è giusto Che ognuno possa credere Dopodiché la fede Esattamente La fede è un'altra cosa Ognuno può credere a quello che vuole La fede è un'altra cosa Ognuno crede a quello che vuole Infatti è come andare da un bambino Andare da un cristiano E dirgli No non dico che un cristiano sia un bambino Dico è come andare da un bambino E fammi parlare Come andare da un bambino E dirgli Babbo Natale non esiste È cattivo Scusa Cioè io sono totalmente ignorante Lui ti dice di cosa parla questo libro Io vi parlo di quel libro Punto Poi purtroppo Quel libro lì È stato fatto diventare il fondamento Per creare quella figura di Dio Ma quella figura di Dio Lì dentro non c'è Tutto lì Dopodiché Dio esiste Dio esiste Ma per carità Figuriamoci se mi metto a discutere E quindi in sostanza La Bibbia parla di questi Elohim Sì Una stirpe di Elohim In particolare di uno Perché la Bibbia è stata scritta Dagli israeliti Che parlano della loro storia Alla loro storia Comunque dicevamo prima È un po' barbaro Dover andare in giro con Cioè questa è un'opinione personale In giro con Il tuo mito Il crocifisso Cavolo con tutti i modi In cui puoi rappresentarlo In giro Come se andassi in giro con Il mio mito impiccato Se Gesù dovesse ritornare E vedere un sacco di gente Con lui appeso così Non sarebbe contentissimo Si prenderebbe male Non so se la mettiamo questa cosa qua Mi sembra un po' troppo Come se un fascista girasse Con Mussolini a testa in giro È vero Invece un'altra cosa Che mi interessa a me È la genesi La genesi di cosa parla In realtà La genesi Allora non ha nulla a che vedere Con la creazione del mondo Dell'universo Perché in ebraico Non esiste il verbo Che significa creare Proprio non esiste Non esiste Meno che mai Creare dal nulla È proprio un concetto Che non c'è Non c'è Assolutamente Nella mentalità semitica Non soltanto in ebraico Eccetera Il verbo bara significa sempre Che è quello che viene tradotto Con creare Significa sempre intervenire In una situazione Già esistente Per modificarla Quindi la genesi Ci racconta Di quando Questo gruppo di Elohim È arrivato qui Si è installato In un certo posto E l'ha modificato Per renderlo Per loro vivibile Poi in quel posto E qui Gli ebrei parlano Di clonazione Veramente Con una tranquillità Assoluta Cioè gli ebrei sostengono I rabbini Hanno creato Hanno creato Nel senso che diciamo noi Così come diciamo Che Michelangelo Ha creato La statua del musee Insomma Quindi ha modellato Del marmo Hanno fabbricato Gli adamiti Con il loro patrimonio genetico Intervinendo Sull'homo erectus O l'homo habilis Che c'erano Quindi in sostanza La creazione di Adamo e Deva Quella cosa della costola È la fabbricazione Del sapiens Con l'introduzione Di loro patrimonio genetico Ma scusate Durato male Ma se io vado in Israele E ti dico Oh ma Adamo e Deva Quindi sono stati clonati Tutti mi dicono di sì Allora Allora Io ho fatto Una conferenza A Comun Nella settimana Quando ho chiuso Mi hanno chiamato A chiudere la settimana Letteraria di Como E c'era una signora Nel pubblico Che a un certo punto Si è alzata Alza la mano E dice Io da 12 anni Cosa ha detto Chiedo 12 anni mi pare No vivo in Israele E in Israele Io sento dire le cose Che dice lei Cioè Adamo e Deva Sono stati clonati Sì Ma voglio dire Quando è stata clonata La pecora Dolly Che qui si è scatenato Giustamente Tutto il discorso etico Sono stati intervistati Teologi Scienziati E' stato intervistato Anche un rabbino Docente di etica medica All'università Ebraica di Gerusalemme E lui ha detto Ma che problema c'è La Bibbia La clonazione La conosce da 4.000 anni Io sarei proissimo Alla clonazione Sì Ma è così Ma perché l'etica Alla fine è una cosa Molto culturale E quindi scusami Dato per Cioè Sediamo per assodato Che ci potrebbe essere Un fondo di verità Sediamo per finta Facciamo finta Facciamo finta Che questa cosa sia vera Facciamo finta Noi siamo i cloni Di questi Elohim Sì Siamo il distillato Difatti attenzione Proviamo a riflettere bene Immagine e somiglianza Proviamo a riflettere bene Noi Sulla Terra Siamo L'unica Specie Che per Natura Non è adatta A nessun Ambiente naturale Ogni essere vivente Ha la sua Cosiddetta Una o più Nicchia ecologica Certo Noi Non c'è Tant'è che Noi viviamo ovunque Perché noi abbiamo La capacità Di adattarci A vivere ovunque Ma per natura Uno dice Ma gli indigeni Ma guardate gli indigeni Senza archi Senza freddo Cioè voglio dire Quando è che Anche gli archeologi Dicono qui c'è stato l'uomo Quando trovano le lame di selce Perché l'uomo Ha sempre bisogno Di costruirsi protesi Perché Perché non abbiamo le zanne Non abbiamo gli artigli Non abbiamo più i peli Che ci ripetano Non abbiamo più niente Non abbiamo nessuno Dei sensi Particolarmente sviluppati Siamo come i ciluaua Però abbiamo il cervello Però abbiamo il cervello Il pollice Che è quello Che loro ci hanno fabbricato Perché noi siamo stati costruiti Per essere una specie In grado Facciamo finta che Questo ovviamente Non lo ripeto ogni frase Perché è la base del mio lavoro Perché noi dovevamo essere Una specie in grado Di capire e eseguire ordini Punto Dopodiché Essendo noi una specie Non più regolata Dagli equilibri della natura Perché costruita esternamente Rispetto agli equilibri della natura Siamo anche sfuggiti al controllo Tant'è che si dice L'umanità è un po' un cancro Per il pianeta Siamo tipo i gremlin Perché noi non abbiamo Non abbiamo i competitori naturali Sì, credo sia una prospettiva Ci siamo moltiplicati Ma l'abbiamo detto oggi Eravamo con l'architetto Non abbiamo parlato dei gremlin No, ho detto che siamo un parassita Per la terra Ecco l'architetto Boeri Oggi era Ecco, esattamente Siamo un parassita Perché siamo Un qualcosa di leggermente diverso Non costruito Credo che sia una prospettiva Un po' antropocentrista Quella per la quale l'uomo È riuscito ad evadere Dalla logica naturale Se guardiamo agli animali Le differenze Che li contraddistinguono Sono magari Un eccesso In una caratteristica E una carenza in un'altra Sì E questa cosa Si potrebbe applicare Tranquillamente anche all'uomo Che ha un sistema nervoso Estremamente sviluppato Laddove invece Ha mancanza di forza fisica Di peli Di zanne Eccetera Ci sono animali Come il riccio Ad esempio Che è altro che un mantello Cioè ha proprio degli aculei Sì Quindi forse si tratta semplicemente Di un elemento di compensazione Assolutamente Nell'evoluzione Senza la necessità Di tirare in causa Un intervento genetico Certamente Da parte esterna Però siamo anche L'unica specie Che rispetto a tutte le altre Ha avuto una sorta di Come se fossimo stati Sotto steroidi E ci siamo sviluppati tantissimo Cioè il coccodrillo Se ci pensi È così Da un bel po' Sì perché ha trovato Ha trovato il suo equilibrio Come anche l'ape Ape e il coccodrillo Sono così da milioni di anni Non ci soddisfiamo mai Noi siamo Siamo destinati A finire prima Delle altre specie Sì Perché siamo Siamo un po' In una corsa Un po' In una corsa Cioè abbiamo In realtà I dati dicono Che abbiamo 200 mila anni L'homo sapiens Per come siamo fatti Abbiamo 200 mila anni La scienza 250 Esatto Da quando siamo in piedi Abbiamo i pollici Eccetera Che è pochissimo Cioè Non lo so La terra ha 4 miliardi Però noi abbiamo nel cervello Cioè dentro di noi Una serie di sequenze geniche Che sono quelle che fanno di noi Il sapiens Che sono quelle che riguardano Proprio la Diciamo così L'evoluzione La fabbricazione del cervello Che non condividiamo con nessuno E che Veramente Nessuno è in grado di dire Da dove arrivano Quando dico nessuno Intendo dire genetiche Biologi Eccetera Ci sono degli aspetti della natura Però che sono irripetibili Anche in altre specie Per esempio hanno scoperto Questo insetto Che ha nell'articolazione Dell'anca Due rotelle Che si intersecano Tra di loro Come due ingranaggi Due ingranaggi Esattamente Che è una cosa incredibile Unica Unica Esattamente L'unica differenza qual è Che noi abbiamo I popoli antichi Di tutti i continenti Della terra Quindi la Bibbia Non è altro che uno Dei tanti libri Scritti dall'umanità Una dinastia sola Che ci dicono Ci hanno fabbricati Quelli là Allora O dobbiamo pensare Sto sempre facendo Delle ipotesi Facendo fin da che O noi dobbiamo pensare Che tutti hanno avuto La stessa fantasia Che tutti hanno inventato La stessa cosa O che forse Un fondamento di verità Teoricamente ci potrebbe essere Dopodiché Quindi facendo Ragioniamoci Che noi saremmo Una dinastia Di schiavi Di una popolazione Che non Che arriva Da un altro posto Fossimo Cosa? Fossimo Voglio dire Anche Saremmo Saremmo Facendo finta Il sistema Che noi fossimo No 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 Noi saremmo Una dinastia Come fossero Gli schiavi Esatto Il sistema finanziario Che ci governa È quello descritto Qui dentro Sì perché Non hanno mica Inventato nulla Ma pensa a te Ma prenderlo È tutto descritto Qui dentro Ed è applicato Alla perfezione A me mi interessava La figura degli angeli Perché Noi abbiamo Nell'immaginario collettivo Per noi gli angeli Sono L'angelo Gabriele Che gli dice A Maria Io esco Io esco E invece Cosa 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 ci può dire Degli angeli Rispetto alle Gli angeli Che in ebraico È malachim E che Correttamente Viene tradotto In greco Angelo E da cui deriva L'italiano Angeli Significa messaggeri Cioè portatori Di Portatori di ordini Controllori Eccetera Eccetera E facevano Il loro mestiere Cioè erano All'interno Di quella gerarchia militare Erano individui In carne ed ossa Erano individui Non piacevoli Da incontrare Erano individui Che di tutto Si occupavano Meno che Della spiritualità Dell'uomo Perché nella Bibbia Della spiritualità Dell'uomo Non frega niente A nessuno Tant'è che Quando io parlo Con miei amici ebrei Mi dicono Chiaramente Noi dell'aldilà Non sappiamo nulla Perché il nostro Non ce ne ha mai parlato Beh beato il dio Dio degli ebrei Perché è un dio nascosto Perché non ce ne ha mai parlato Quindi non ne sappiamo nulla Gli angeli quindi Erano semplicemente All'interno Di questa gerarchia militare Ora poi Addirittura Sono stati fatti Diventare angeli Anche dei personaggi Che neppure angeli erano Per esempio I cherubini I cherubini Come anche scritto In un blog Di consulenza ebraica Io l'ho scritto Nei miei libri L'ho documentato Ho dedicato Vari capitoli Ai cherubini Proprio perché Mi rendevo conto Che stavo Come dire Toccando un tema Di una sensibilità Molto forte Quindi Suscettibile di reazione I cherubini Erano delle macchine In che senso Delle macchine? Macchine Dei robot Sui quali Si volava Stando seduti Come si sta Seduti a cavallo Ma C'entrano loro Con gli Elohim In qualche modo? Sì Lavoravano Erano Cioè A parte che se erano dei robot Non è neanche Che avessero Come dire L'autocoscienza L'autocoscienza E i serafini? Allora I serafini Che sono la categoria superiore Derivano Da un verbo ebraico Che significa Bruciare Perché sono i più vicini E quando si parla Esattamente Sono quelli che stanno Diciamo così Nella parte interna A contatto Delle dimore Degli Elohim E quando si parla Dei serafini Che si dice Che cantano Costantemente La gloria E gli inni Di gloria A Dio In realtà In ebraico Cioè si indica Il fatto che Emettono Un rumore Continuo Ora siccome Producono Energia e luce Ed emettono Un rumore Continuo Io lo so Che anche a me Viene un po' Da sorridere Però mi vengono In mente Un allarme Un produttore di energia All'interno Delle dimore Luce e calore Ah beh certo Ma quindi I cherubini Cioè scusate I cherubini Erano dei robot Gli ebrei lo sanno Questa cosa Gli ebrei sanno Che i cherubini Sì Ragazzi Io sono Dico Quella signora Quella signora Che alla conferenza Di Como Quindi pubblicamente Ha detto Io da 12 anni Vivo in Israele In Israele Dicono le stesse cose Che dice lei Cioè se io Becco un Un rabbino Attenzione Attenzione Ecco anche qui Bisogna stare attenti Il mondo ebraico È un mondo Estremamente variegato Ok Per cui All'interno del mondo ebraico Va detto E questo è Un grande loro merito C'è posto Per tutte le posizioni Possibili Immaginabili Cioè All'interno del mondo ebraico Si va dall'ateismo puro All'ultra ortodossia Più reazionaria Quindi Dall'ateismo puro Alla teologia Più alta E più Chiamiamola così Sfrenata Dentro a queste sfaccettature Si può trovare C'è tutto E quindi noi La domanda che mi viene in mente L'angelo Gabriele Con i ricciolini Tipo Shirley Temple Che va dalla Madonna E gli dice Allora Gabriele in ebraico Significa Uno Gabriele Gewehr di un el Cioè Uno che esercita il potere Per conto di un el O potenza di un el Ma lui però era carino Perché è andato dalla Madonna Esattamente Uno che esercitava il potere Per conto di un el Va da Maria E le dice in greco Kaire che caritomene Cioè gioisci Piena di grazia Ma in greco Il verbo carito Quello è il perfetto passivo Che caritomene Il verbo carito Significa essere Graziosi fisicamente Cioè gioisci tu Bella figa Bravo Che ti sei fatta bella Perché in sostanza Abbiamo scelto te Per fare questa operazione Tant'è che Giuseppe E questo però Non è nei Vangeli canonici Cioè quelli che noi Dobbiamo credere Ok Quelli apocrifi Ma nei cosiddetti apocrifi Che noi non dobbiamo Credere veri Ma c'è scritto Che quando Giuseppe Torna Da una campagna Di lavoro Di sei mesi E trova Maria incinta Si incazza Eh beh mi incazzerei Si incazza E dice Chi è che mi ha fatto questo Perché a me è stata affidata Questa ragazza vergine E adesso me la trovo incinta Chi è che è E dice ad un certo punto Addirittura Ma non è che qualcuno Che si è fatto passare Per un angelo L'ha ingannata E dice Hanno fatto a me Ciò che hanno fatto Ad Adamo Cioè Quindi l'angelo Era Bill Cosby Raga Hanno messo incinta La mia Chiamiamola compagna No Tant'è che per Eva È successa la stessa cosa Cioè Eva è stata messa incinta Da un El Rivale Degli Elohim Che comandavano Nel cosiddetto Paradiso terrestre E da lì nasce Caino e Abele Esattamente Ho visto Sparato l'unica roba che sapevo Invece Lilith La figura di Lilith La figura di Lilith Nella Bibbia È sostanzialmente Chi è Lilith raga È una figura femminile ebraica Ok Che fa parte dei racconti Però nella Bibbia È stata sostanzialmente Fatta scomparire Lilith Potrebbe rappresentare La figura intermedia Cioè L'anello di congiunzione Tra i Diciamo L'homo Il genere omo Prima che diventasse sapiens E l'homo sapiens Quindi l'anello di congiunzione Un po' quella figura femminile Attraverso la quale si è passati Per arrivare Diciamo così Chiamiamolo così A questo livello di purificazione Fisica e genetica Che interessava gli Elohim Ok Tant'è che poi Abramo Adamo non doveva più unirsi con Lilith Quando gli hanno fatto Eva Ma la cosa bella È una figura femminile che precedeva Precedeva esattamente Bravo E tant'è che io In più di una conferenza Ho citato delle note scritte Da editori ebrei La casa editrice Mamash Dove quando io avevo detto Prima ancora di citare quelle note Che quando gli Elohim S'accorgono Che l'Adam maschio da solo Non sta bene E decidono di fabbricargli una femmina Era perché avevano visto Che Adamo si univa con gli animali Perché aveva ovviamente Le pulsioni sessuali Sono stato coperto di insulti Poi nei libri Nei testi pubblicati Solo dagli ebrei Nella casa editrice ebraica Dove scrivono solo rabbini C'è scritto chiaramente Nelle note Quindi l'ho fatto vedere Con grande soddisfazione Nelle conferenze Che prima di avere Eva Adamo si univa Con ogni sorta di animali E la proibizione È intervenuta Solo dopo che Gli hanno fabbricato Eva Come dire Adesso la femmina ce l'hai Lascia stare gli animali Zofilo Non aveva nessuno Poteva metterli incinta? No C'è una incompatibilità tra specie Magari l'hanno creato dopo Dopo che Adamo andava a fare Dei cani Con la testa umana Dei serpenti Da lì le divinità egizie Esatto Esatto Magari Invece Avevamo citato prima Nella Genesi La parte di Lot C'è questa scena A un certo punto Buffissima Di due Al termine appunto Del dialogo Tra Abramo Sì Alla fine Dio viene convinto A mandare due angeli A recuperare questo Lot Che è l'unico puro In città I due angeli Entrano camuffati Tipo da viandanti Dentro la città di Sodoma E tutta la città Li guarda un po' Che già fa un po' ridere Che gli angeli Si debbano camuffare Per non essere riconosciuti Lot li trova Al centro del paese Fa ma cosa ci fate qua Questa è una città piena di invertiti Venite con me Li porta a casa Poco dopo La città intera Si trova davanti alla porta E dice Tiraci fuori quei due Che li dobbiamo sodomizzare No Stuprano gli angeli Vogliono stuprarli Ma Lot Che è furbo Fa Stupra tutto il paese Chi si trova sotto il mio tetto Mio ospite Io lo proteggo come mio fratello Ho tra l'altro due figlie vergini Prendete loro Gli lancia le due figlie Dove è scritta sta storia? Mio genesi Ma davvero 19 Aspetta è da lì che è nato Sodoma a sodomizzare? Eh sì Ma scusa E quindi tutto il paese Ha stuprato le figlie di Lot No 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 Non l'hanno fatto Ah no sono stati carini Non l'hanno fatto Perché i due angeli I due angeli Come si sono difesi Si sono difesi Producendo una luce fortissima Quindi con uno strumento Che non sappiamo cosa fosse Che ha accecato Quelli che erano fuori della porta E volevano entrare Sono riusciti a fuggire Quindi gli angeli Hanno dovuto utilizzare Un escamotaggio Chiamiamolo così Tecnologico Tipo il colpo di Ten Sync Come si chiama O anche il coso di Man in Black Può essere Tecnologico Per poter scappare Ma la cosa più bella Però Delle due figlie Poi successivamente Oh madonna Non c'è un libro Su cosa è successo Dopo che le due figlie Sono entrate a casa di Lot Attenzione Attenzione Dopo succede di peggio Perché Lot scappa con le due figlie E la moglie Gli angeli gli avevano detto Non voltatevi Mentre che Dio distrugge La città di Sodoma La moglie Curiosa si volta Viene trasformata In una statua di sale Cioè la moglie si ferma E quindi rimane vicina All'evento E la tradizione dice Che si è trasformata In una statua di sale In realtà Il verbo ebraico Indica anche Lo sciogliersi Come si scioglie Il sale nell'acqua Che è per esempio Ciò che è successo Ha Hiroshima e Nagasaki Cioè i corpi che si dissolvono Per effetto di un forte calore Poi le due figlie Siccome sono convinte Che non sia più rimasto nessuno Dicono Allora nessuno ci darà una progenie Allora cosa facciamo? Beh facciamo così Ubriachiamo nostro padre Poi facciamo sesso con lui E facciamo dei figli No Peso eh No ma aspetta Aspetta un attimo Nella Bibbia Sì sì La Genesi Basta leggerlo Sì Allora aspettate un attimo Perché la cosa bella Uno dice Vabbè povero Lot È stato ingannato Vabbè povero Lot Prima le voleva far stuprare Da tutto il paese No no ma Aspettate un attimo La prima sera La prima sera Lo fanno ubriacare E poi una figlia Diciamo si unisce con lui Non diciamo abusa di lui Si unisce con lui E fanno sesso Vabbè tanto secondo me Per com'era Lot Allora diciamo Diciamo che la prima sera Lot ci è cascato Ok Ma la seconda sera Quando hanno ricominciato A farlo ubriacare Per farlo unire Con la seconda figlia Ci è cascato di nuovo? No No E quindi L'ha fatto? E quindi l'ha fatto Molto volentieri E dice entusiasta la Bibbia Che da lì è nata una famiglia L'ha fatto quindi È stato stuprato Dalla figlia? Non è stato stuprato Hanno fatto sesso Cioè hanno scoprato Consensualmente Cioè C'è ricascato Infatti dicevo Secondo me Lot bastava Che glielo chiedevano E se le scopravo tutte e due È possibile Da come era Da come me l'avete presentato Si sarebbe fatto problemi Si 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 sono vendicato un pochino Posso dire Che libro fantastico Ragazzi Ma infatti bisogna leggere Dovrebbe una recensione Della Murgia sulla Bibbia Perché è fascinante Altro che Games of Thrones Questa roba Dovremmo fare Non lo so Dovremmo fare dei gruppi di lettura Sì Della Bibbia Ma che fantastico Avete altre orge da raccontarci Ma allora Perché è fantastico Ecco allora perché È appassionante Perché se leggi delle storie del genere Allora nel secondo libro Mondadori Che è il falso testamento A proposito di orge Sì Falso testamento C'è un capitolo Dedicato Che è intitolato Orrore Biblico Perché è dedicato al fatto Che Quel popolo Poteva fare sesso Con le bambine Di tre anni un giorno Da quel momento in su Madonna È tutto documentato E che popolo era? Israele Ah Ma Piccole È tutto Tant'è che Devo dirvi francamente Quando ho scritto quel capitolo È un capitolo talmente forte Forse ce l'ho lì nella borsa Il libro Non lo so È un capitolo Un capitolo talmente forte Talmente duro Che Ho pensato Mondadori non me lo pubblica O me lo fa addolcire Invece Non mi hanno toccato una riga Grande Silvio Non mi hanno toccato una riga Ed è proprio il capitolo Intitolato qui Orrore Biblico Dove non solo c'è Orrore Biblico Pagina 205 Salute Grazie Dove Non solo ci sono i passi biblici Ma ci sono poi anche Tutte le citazioni posteriori Degli studi rabbinici Delle affermazioni rabbiniche Che avallano questa cosa qui Cioè potevano fare sesso Con le bimbe da tre anni in su Madonna E in alcuni punti Addirittura Non nella Bibbia In letteratura Extra biblica Si legge che Fare sesso Con le bimbe da tre anni in giù È come mettere un dito in un occhio Fa male Ma poi passa Continuo a ripetere A leggere questo passo Rivaluti lotto Sì sì Non sono d'accordo E attenzione Per esempio Mi dissocio Anche io Mi dissocio Mi dissocio Beh ovvio Ci dissociamo tutti Chiaramente Tutti dissociati Certamente Quando la Bibbia qui dice Si parla della spartizione Di un bottino di guerra Che era una guerra di sterminio Contro i Madianiti Ora teniamo presente Che i Madianiti Erano discendenti Diretti di Abramo Quindi loro cugini primi L'ordine era Sterminateli tutti Ah Quindi tra parentesi Tra parenti Scusate Allora Quando tornano Da questa campagna di guerra Ve lo leggo Quindi siamo in numeri 31 Mosè si addirò Contro i comandanti Dell'esercito Che tornavano Da quella spedizione di guerra E Mosè disse loro Ma avete lasciato in vita Tutte le femmine? Cioè come dire Non vi ricordate l'ordine? Perché proprio loro Hanno insegnato Gli israeliti Insomma l'infedeltà Eccetera 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 Ora fate così E questa è sulla Bibbia normale Vi sto leggendo la vostra Cioè uno pensa a Mosè Poverino col bastone Ora uccidete ogni maschio Tra i fanciulli E uccidete ogni donna Che si è unita con un uomo Quindi Se vedete una madre Che ha un bambino Li uccidete tutti e due Perché ovviamente Lei si è unita con un uomo E questo è Mosè Ma attenzione E qui c'è un'altra cosa Ma tutte le fanciulle Che non si sono unite Con uomini Conservatele in vita per voi E uno dice Vabbè Ma questo è scritto Sulla Bibbia è normale Lo sto leggendo Mosè sta dicendo Attenzione Mosè dice ancora un'altra cosa Perché noi leggiamo le fanciulle Che è la traduzione edulcorata Perché quando nella nostra civiltà Noi pensiamo alle fanciulle Diciamo Sedicenni Diciasettenni Diciottenni Ventenni Ventidue Dice vabbè Insomma tutto sommato Che si tenevano No 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 In ebraico non c'è scritto questo In ebraico c'è scritto E se voi prendete le Bibbie ebraiche Come quelle pubblicate dalla Giuntina C'è scritto tutte le bambine Non le fanciulle Le bambine che non si sono unite con uomini Conservatele in vita per voi E poi alla fine fanno la spartizione Quindi uccidono tutti Salvo le bambine Attenzione Poi fanno la spartizione E nella spartizione A cui partecipa anche Yahweh Che si prende tutta una quantità di vacche Tutta una quantità di pecore Cosa se ne faceva lui? Alla fine gli spettano 32 bambine A chi è Mosè questo? A Yahweh A Dio Cioè 32 esseri viventi Ma gli unici esseri viventi Cioè che erano rimasti in vita dopo quella strage Erano le bambine Quindi a Yahweh spettano 32 bambine Cosa se ne fa Dio di 32 bambine? Rispondano i credenti Più vado avanti Più guardo con disincanto ogni cosa Non c'è più religione Soprattutto dopo oggi Questo direi che è una chiusura fantastica Io direi di ringraziare Mauro Biglino Perché abbiamo parlato per tantissimo E siamo Veramente grazie mille È stato super interessante Io quello che posso fare È ovviamente Informatevi Io vi lascio questi Se volete informatevi Questi sono i libri di Mauro Biglino La Bibbia non parla di Dio Beh mi sembra giusto farlo Il falso testamento E la Bibbia non è un libro sacro Se volete approfondire l'argomento Questi sono i libri E ringraziamo Mauro Biglino Per essere stati con noi Per essere stati Plurale Plurale maiestatis Ringraziamo Mauro Biglino Per essere stato con noi Questo era Eh? Lo diceva grazie Grazie a voi Grazie mille E questo era Muschio selvaggio Alla prossima puntata Ciao a tutti